Contrastanti c'è chi dice ma insomma peggio di così non si potrebbe andare per cui tanto varrebbe andare alle elezioni, ricominciare da capo, sbaracare tutto, insomma questa è la posizione di Grillo. Grillo è uno dei mali di questo Parlamento e forse se si rivolta può darsi che questo male si riduca diciamo anche perché anche perché molti cittadini hanno votato Grillo pensando che lui avrebbe cambiato le cose invece lui ha soltanto aumentato la confusione diciamo quindi non prenderei molto in considerazione Grillo diciamo da questo punto di vista perché purtroppo lo considero più diciamo più il sintomo di una malattia che non la cura diciamo. Non mi pare che sia venuto da quel movimento nessuna indicazione positiva, nessun contributo ad affrontare i problemi del paese quindi un puro spreco aver votato Grillo.